Salve e pace a voi. Oggi continueremo ad occuparci di come si può trarre profitto della lettura del libro dei libri, la Bibbia. Il libro più letto di tutti i tempi. Magari sarebbe opportuno che vi muniate con qualcosa per scrivere e fare appunti di questa presentazione. La storia dell'universo. La storia del Dio dell'universo. Con il genere umano e conservato e disponibile nella Bibbia. Racconta dall'inizio alla fine a venire l'interesse di Dio per gli uomini e di come egli ha realizzato la possibilità della riconciliazione. Ma oltre a questo, le sacre scritture sono il parlare di Dio ai nostri cuori e al nostro intelletto, una fonte inesauribile di rivelazioni su Dio e su noi stessi. Perché facciamo bene leggere e seguire quanto dice questo libro, la Bibbia? Sentiamo cosa ne dice Daniel Brown nel suo libro di studio alla scoperta della vita con Dio. Lui ne porta alcuni appunti e dice perché la Bibbia è perfetta. Essa è vera e corretta in ogni dettaglio che concerna la vita. È completa, non vi manca niente di ciò che abbiamo bisogno per vivere. Ristorerà la tua mente, il tuo cuore e la tua coscienza per renderli come Dio li aveva intesi. La sua parola porta i tuoi pensieri e le tue emozioni su altre vie. Essa guarisce delle aree della tua vita interiore che sono state spezzate, legate o ferite da modi spagliati di pensare o di percepire la vita. È veritiera e affidabile, è una base sicura per la vita e per tutte le decisioni da prendere. È un fondamento solido sul quale stare in qualsiasi circostanza. Ti rende incredibilmente saggio, ti indica cosa fare, pensare o dire in ogni situazione. Non ti devi più basare sulla tua stessa esperienza limitata. Ti verranno in mente delle storie e dei versetti della Bibbia che ti offrono consiglio e ti indirizzano a prendere le decisioni giuste. Inoltre la Bibbia è giusta, esattamente come dovrebbe essere, come una chiara e soleggiata mattina, come una tavola squisitamente apparecchiata. Non c'è niente di meglio. La parola di Dio è autentica, porta una profonda gioia nel tuo cuore. Così come quando ammiri la bellezza di un tramonto, un costante confronto con la Bibbia agirà contro le sostanze contaminate della vita, risvegliando un fondamentale sentimento di benessere e prosperità nella tua vita. Poi la Bibbia è limpida, totalmente libera da ogni contaminazione di persone false o da ogni altro elemento di distorsione. Non contiene doppi sensi né messaggi che hanno bisogno di essere filtrati. Ti rivela ogni contraffazione, sotterfugio o falsità che altrimenti non sapresti discerne da solo. La Bibbia è come un potente raggio luminoso che illumina il sentiero davanti a te, ti mostra le bucche nascoste e gli ostacoli, conducendoti sul sentiero migliore. Poi la Bibbia è vera e giusta. Mostra a fondo come Dio aveva inteso la vita. Ci vengono rivelate la giustizia, la verità di Dio tramite la Bibbia, Dio si fa conoscere. Ti rende consapevole di ciò che dura sino all'eternità e di ciò che invece passa. La parola di Dio persiste per sempre e, quando questo a vita sarà finita, rimarranno solamente le cose riguardanti l'eterna verità. E per ultimo, la Bibbia è desiderabile, è dolce. Il tuo spirito la desidera, come se fosse il cibo più gustoso. Niente ha un sapore migliore per la nostra anima che la Bibbia, niente ci può offrire un nutrimento migliore per la nostra crescita e salute spirituale. Rafforza il tuo sistema immunitario spirituale, ti protegge da agenti virali esterni e ti guarisce dalle sofferenze interiori che potrebbero sfruttare la tua vulnerabilità. Le scritture ti procurano un gran numero di meccanismi difensivi per ogni tipo di infezione. Perciò, un consumo costante della Bibbia creerà un senso interiore di pace e di gioia. Come dice nel Salmo 119, il versetto 165, Grande pace hanno quelli che amano la tua legge e non c'è nulla che li possa far cadere. Una sorta di ottimismo che ci rende capaci di credere che Dio ha tutto sotto controllo. La parola di Dio è adatta per ringiovinirci e sollevarci dal nostro passato per attrezzarci per il futuro. La Bibbia e la lettura della Bibbia ci edifica, ci fornisce tutti i mezzi e le risorse che Dio vuole che abbiamo a nostra disposizione. Ora, qual è un buon metodo per leggere la Bibbia? Daniel nel suo libro ci fa alcune proposte semplici e utili, iniziando con il nostro atteggiamento. Dice, punto uno, inizia con il credere che ciò che stai leggendo nella Bibbia è vero. Non cercare di leggerla per decidere se ciò che leggi è vero o meno. Ai ai, questo è un punto importante per la partenza. Lo voglio ripetere per questo motivo. Leggendo la Bibbia credi che ciò che stai leggendo è vero. Abbi fiducia. Non cercare di leggerla per decidere se ciò che leggi è vero o meno. Iniziando a leggere la Bibbia è opportuno anche esprimere una piccola preghiera. Voglio farvi un esempio. Pregando così. Signore, insegnami tramite la Tua parola, impianta questi versetti nel mio cuore in modo che possano portare frutto nella mia vita. Amen. Un'apertura di mente e di cuore verso questa parola preziosa. Un secondo punto. Leggila più regolarmente possibile. Un po' ogni giorno è meglio che tanto in un sola volta. Tre. Leggi la Bibbia come se stessi cercando un tesoro. Con questo atteggiamento che cerca nella tua vita quanto riguarda ciò che leggi nei versetti. Quattro. Aspettati una rivelazione. La parola di Dio è viva. È attiva. Ti parla direttamente. Ascolta il tuo cuore quando si tratta di questioni della tua vita o questioni che riguardano argomenti su quali hai dei dubbi. Punto 5. Segnati. Sottolinea ogni versetto che ti colpisce particolarmente. Soprattutto quei versetti che ti edificano, che ti confortano. Presta attenzione alle promesse e ai comandamenti che rivelano il cuore di Dio che Lui ha per te. Punto 6. Cerca delle dichiarazioni che contrastano il tuo modo di pensare, sentire o agire. Quando scopri delle differenze, chiedi a Dio di cambiarti. Non saltare questa parte. Anche se può sembrare a volte un po' fastidioso. Ma ti dico una cosa. Chi solamente ci lusigna non è un nostro vero amico. Chi ci dà sempre retta non è un vero amico. Possiamo imparare molto di più da chi ogni tanto ci contrasta. Punto 7. Leggi secondo questi quattro modi o livelli. A. Letterale. Semplicemente guardando cosa sta succedendo in quel brano che è descritto. Ciò che Dio fa o dice nella vita di singole persone. B. Sotto l'aspetto tematico. Ci sono dei principi, delle comprensioni in questo testo che mostrano come Dio opera. C. Nella modalità profetica. A volte un brano comprende delle promesse riguardo a cose che Dio farà nella storia dell'umanità. e per finire il punto D in modo personale. punti in cui vieni incoraggiato e distruito nella tua vita. Ora vogliamo fare subito un esempio come questo può essere fatto. Io prendo in mano la Bibbia e la apro nel Libro degli Atti capitolo 8 dal versetto 26 al versetto 40. Qui ha riportato una storia, un evento, qualcosa che era successo con l'Evangelista Filippo e un eunico che si chiamava non si sa, non è scritto il nome ma si sa che veniva dall'Etiopia. Io leggo il testo. Ora un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo «Alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza essa è deserta». Egli si alzò e si mise in cammino ed ecco un uomo etiope e un uco un alto funzionario di Candace regina degli Etiopi sovrintendente di tutti i suoi tesori che era venuto a Gerusalemme per adorare. Ora egli se ne stava ritornando e seduto su suo carro leggeva il profeta Isaia e lo spirito disse a Filippo «Accostati e raggiungi quel carro». Filippo li corse vicino e sentendo che leggeva il profeta Isaia gli disse «Comprendi ciò che leggi?» Quelli risse «E come potrei se nessuno mi fa da guida?» Poi pregò Filippo di salire e di sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo «Egli è stato condotto al macello come una pecora è come un agnello è muto davanti a chi lo tosa egli non ha aperto la sua bocca nella sua umiliazione gli fu negata ogni giustizia ma chi potrà descrivere la sua generazione poiché la sua vita è stata tolta dalla terra?» E Leunucco rivolto a Filippo disse «Ti prego di chi dice questo il profeta? Lo dice di se stesso o di un altro?» Allora Filippo prese la parola e cominciando da questa scrittura gli annunziò Gesù e mentre proseguivano il loro cammino giunsero a un luogo con dell'acqua e Leunucco disse «Ecco dell'acqua cosa mi impedisce di essere battezzato?» E Filippo disse «Se tu credi con tutto il cuore lo puoi» E gli rispose dicendo «Io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio» Allora comandò Alcaro di fermarsi e ambedue Filippo e Leunucco disceso nell'acqua ed egli lo battezzò «Quando uscirono dall'acqua lo spirito del Signore rappì Filippo e Leunucco non lo vide più ma proseguì per il suo cammino pieno di gioia» Questo è il racconto della Bibbia Ora vogliamo applicare nella lettura nell'interpretazione nello studio di questo piccolo brano questi quattro livelli Prima quello letterale Cosa qui era successo? Cosa dice la Bibbia in questo passo? Beh a Filippo Dio dice di alzarsi recarsi in un certo punto lì incontrava il funzionario e Dio dice ancora a Filippo di accostarsi a lui per raggiungerlo Poi Filippo sentiva leggere Leunucco in un libro della Bibbia e lo chiedeva se lo comprendesse Di seguito gli spiegava il brano e non c'è la salvezza di Gesù Alla fine battezza Leunucco nell'acqua Poi c'è la persona dell'Eunucco Cosa è successo nella sua parte della storia? Questo però non ve lo dico vi chiedo di studiarle va voi e fare un riassunto simile a quello che ha fatto su Filippo Poi c'è il livello tematico Quali sono principi comprensioni per capire come Dio opera? Nel testo troviamo questo Che Dio usa una persona per spiegare il significato della Bibbia ad un'altra persona o che Dio guida un suo messaggero per raggiungere una persona che è timorata di Dio ed aversi salvato nella fede in Gesù Oppure si vede questo principio qua che farsi battezzare in acqua è un logico passo successivo alla fede nella salvezza in Gesù Ci possiamo chiedere se questo brano contiene anche delle parti profettiche di questo l'evento descritto effettivamente non ne parla esplicitamente ma c'è un'implicazione profetica perché il testo letto dall'Eunucco era scritto dal profeta Isaia e questo ben settecento anni in circa prima che sia averato nella vita di Gesù un brano che descriva in maniera molto specifica la vita e l'opera di Gesù Cristo un grande esempio di profezia e di come Dio mantiene le sue promesse date in tempo fu e compie ogni sua profezia la questione personale se io per me leggo questo brano cosa mi ispira in che modo posso fare un'applicazione personale alla mia vita ora questo non posso dirlo per voi ognuno dovrà dare la sua risposta a questa domanda continuiamo a completare questo elenco degli punti e ne mancano tre di come accostarci alla lettura della Bibbia quando incontri un passaggio che non comprendi bene e questo accade ogni tanto segnatelo con un punto interrogativo e continua comunque a leggere non fermarti non bloccarti lì fa niente non è grave se ogni tanto rimane un punto di domanda continuiamo a leggere quello che segue significa solamente che il Signore al momento in questo momento non ti stia parlando da quel versetto un punto nove cerca le qualità e le caratteristiche nelle vite dei personaggi della Bibbia che ti assomigliano a volte troviamo descritto delle persone nella Bibbia in qualche modo sembrano rispecchiare un po' la mia vita il mio modo di pensare o la mia situazione attuale chiediti se si tratta di cose buone o meno puoi capirlo se guardi come Dio ha affrontato tali caratteristiche nella Bibbia e per ultimo decimo punto medita medita su ciò che hai letto ripensaci durante la giornata più volte ancora ancora ti stupperai di quante cose Dio ti mostrerà sulla vita quando rifletti la sua parola ora possiamo paragonare la lettura della Bibbia per esempio come segue quali sono dei paragoni della lettura della Bibbia leggendo la Bibbia e permettendo che essa lavi i nostri cuori e la nostra mente essa ripare e riedifica gli aspetti della personalità che Dio ci ha dato senza che noi dobbiamo sapere prima quali problemi o quali ferite ci portiamo dietro la Bibbia ha questo effetto straordinario miracoloso di guarigione di aiuto come una pillola che rilascia lentamente i suoi agenti additivi o una pastiglia multivitamina così anche la Bibbia appena l'abbiamo assunta inizia a lavorare in noi e la Bibbia agisce anche come uno specchio ingranditore che ci mostra due immagini da un'imminente vicinanza essa rispecchia innanzitutto la maestà del Signore così come un telescopio che permette agli astronomi di vedere le stelle ciò che non è visibile all'occhio nudo lo diventa tramite delle enormi lenti similmente la parola di Dio che è molto vicina a te dice la Bibbia ci offri uno sguardo esclusivo su Dio il quale abita un'altra dimensione dei cieli e che pertanto è lontano dalla nostra esperienza di vita quando guardi nella Bibbia essa ti confronterà con la verità su Dio ovvero con la sua personalità il suo carattere e il suo operato il secondo esempio è quello di uno specchio davanti a noi essa ci rifletterà un'immagine accurata del nostro io e ci aiuterà con quelle cose che non possiamo vedere con i nostri occhi naturali su noi stessi senza uno specchio nessuno può vedere il retro del proprio capo per sapere se i capelli sono in ordine o meno beh io questo problema non ce l'ho più però gli errori e le mancanze della nostra anima possono rimanere nascoste e senza risposta se le affidiamo solamente alla nostra propria percezione umana invece la parola di Dio ha l'incredibile capacità di portare alla luce le cose nascoste del tuo cuore questo specchio oltre che farci vedere la meravigliosa verità riguardo a Dio ci mostra anche delle realtà non tanto belle a volte sulla nostra vita stessa la straordinaria promessa del Signore è che non dirige la nostra attenzione sulle nostre debolezza con il solo scopo di informarsi della loro esistenza che a volte già sappiamo da soli la sua intenzione molto più è di mandare la sua parola per guarirci e salvarci come è descritto nel Salmo 107 in versetto 20 e 21 egli mandò la sua parola e li guarì li scampò dalla fossa celebrino l'Eterno per la sua benenità per le sue meraviglie in favore degli uomini anche in Matteo 8 versetto 8 e 16 leggiamo come e quanto è potente la parola di Dio perché lì il centurione rispondendo disse Signore Gesù io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito e Gesù disse va e ti sia fatto come hai creduto e il suo servo fu guarito in quel istante leggendo la Bibbia bisogna bisogna anche rispettare alcune regole che sono come dei guardrail ci aiutano a non andare fuori strada e malinterpretare la parola di Dio perché se con la macchina vai fuori strada e fa anche l'incidente e fa male e rovini qualcosa la stessa situazione si può avverare leggendo e interpretando la Bibbia senza questi guardrail quali possono essere semplicemente non dobbiamo essere grossi studiosi per comprendere queste cose ve le mostro alcune innanzitutto tutta la Bibbia deve essere considerata alla luce di tutto il resto che sta scritto nella Bibbia le singole storie un versetto possono essere interpretate male se considerati da soli o estratti dal loro contesto perciò quando un brano un pensiero nella Bibbia non ti sembra molto chiaro considera altri passaggi che parlano dello stesso argomento e capirai bene l'intenzione della Bibbia in quel passo per esempio in Luca 6,20 Gesù dice beati voi poveri perché vostro è il regno di Dio ora si pone la domanda ma quale povertà chi sono questi poveri che Gesù intende ci può aiutare la lettura dello stesso detto di Gesù nell'Evangelo di Matteo capitolo 5 versetto 3 lì è riportata in questa maniera beati poveri in spirito perché di loro è il regno del cielo questo secondo versetto indica un concetto che poi si ritrova ovunque nella Bibbia come per esempio nel profeta Isaia 57,15 poiché così dice l'alto e l'eccelso che abita l'eternità il cui nome è santo io dimoro nel luogo alto e santo e anche con colui che è contrito e umile di spirito per ravvivare lo spirito degli umili per ravvivare lo spirito dei contritti nel Salmo 51,17 la Bibbia dice i sacrifici che piacciono a Dio sono lo spirito rotto o Dio tu non disprezzi il cuore rotto e contrito e ancora nella lettra di Giacomo capitolo 4 versetto 6 Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili vedete facendo in questa maniera abbiamo risolto il problema l'interpretazione corretta dei poveri nel sermone del monte di Gesù è quella dei beati voi poveri in spirito in questo senso uno secondo strumento che possiamo applicare utilizzare per ben interpretare la Bibbia quando incontri dei punti in cui il tuo cuore e il tuo intelletto non si allineano con le vie di Dio cerca di fare queste due cose prima medita su quel o quei versetti per i prossimi giorni continua a masticarli ripetili nella tua mente e pensaci cerca dei collegamenti con degli eventi della tua vita o con i tuoi pensieri chiedi a Gesù di insegnarti le sue vie e questa è la parola della Bibbia la sua parola e possiamo chiedere a chi è l'autore di questa parola di farcela comprendere e di poterla applicare alla nostra vita di aprirti gli occhi per ciò che Egli ti vuole dire la seconda cosa che possiamo fare è cercare versetti simili un po' come abbiamo fatto prima presta attenzione alle tematiche affidi e ai collegamenti consulta forse una chiave biblica o i riferimenti ad altri passi per scoprire il consiglio di Dio nella sua pienezza e cerca di scoprire cosa dice riguardo agli argomenti specifici che attirano la tua attenzione il punto 3 leggi tutto un libro della Bibbia o più capitoli alla volta per avere il contesto di un brano i personaggi il tempo e il luogo nel quale agiscono più trarai dei dettagli di ogni episodio più sarai in grado di cogliere il contesto generale prenditi del tempo per riflettere meditare considerare il testo da diversi punti di vista studiandolo siamo alla conclusione di questa presentazione certo si potrebbe tenere un seminario di una settimana intera su come dobbiamo e possiamo leggere con intelligenza la Bibbia e interpretarla ma il capitolo sesto si limita ad aiutarci in maniera molto pratica e utile per cosa? per riconoscere la differenza tra la religione e l'avere una propria relazione personale con Dio spiegare il perché Dio fece scrivere la Bibbia per noi perché c'è potenza con la quale la parola di Dio ci rinnova e ci ristora la Bibbia è diversa da ogni altro libro il capitolo mostra che le promesse contenute nella Bibbia possono cambiare le nostre vite e comprendere come la Bibbia rivela la verità su Dio e su noi stesso ora in queste mie presentazioni riesco a condividere solo parzialmente quanto è scritto in questo prezioso libro di Daniel Brown alla scoperta della vita con Dio perciò vi chiedo di ordinare ora ho anche un prezzo scontato presso la stazione tv parole di vita questo volume troverete esercizi e altri approfondimenti su ogni argomento è un ottimo strumento per conoscere da neocredenti il pensiero di Dio e per i collaboratori delle chiese per essere equipaggiati ad insegnare le verità della Bibbia ad altre persone potete chiamare anche il numero 0 9 7 5 3 7 22 10 ripeto 0 9 7 5 3 7 22 10 o mandare un messaggio su Facebook o in altre maniere vi ringrazio per la vostra attenzione spero di rivedervi alla prossima puntata arrivederci per la vostra attenzione attenzione per la vostra attenzione per la vostra attenzione per la vostra attenzione Grazie a tutti.